Musica Lucida e calcolatrice, così il GIP del Tribunale di Catania, Daniela Monaco, crea definito nell'ordinanza cautelare in carcere Martina Patti, accusata di aver ucciso la figlia di 5 anni Elena Del Pozzo, intanto domani pomeriggio in cattedrale a Catania verranno celebrati i funerali. Questo pomeriggio a Paternò un incendio nella zona dell'ex hotel Sicilia richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento locale. Le fiamme hanno minacciato l'edificio di via Vittorio Emanuele, ma non è l'unico incendio scoppiato a Paternò. Beni per 5 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Catania e l'imprenditore Alessio Primo Tirendi, originario di Milano, residente nella provincia Etnea, più volte indagato per violazioni tributarie e commissione di frodi nel settore delle accise. Turni di lavoro da 10 ore al giorno, lavoratori pagati 3 euro l'ora, è successo a Catania in un autolavaggio. La polizia ha denunciato un uomo per sfruttamento dei lavoratori. A Mister Bianco, sabato 25 giugno alle ore 19, in Piazza Pertini, si terrà la microcippatura gratuita dei cani in collaborazione con i comuni di Camporotondo e Tenneo e San Pietro Calarenza. Le nostre di partenza, la maturità 2022, domani, mercoledì 22 giugno alle 8.30, inizierà la prima prova. A Paternò nasce l'associazione Amici di Sofonisba, obiettivo è valorizzare i beni artistici della pittrice cremonese, la Madonna dell'Itria e la Madonna del Riparo. Presentata questa mattina la Villa Comunale Adrano Summer Festival, la rassegna estiva organizzata dall'amministrazione comunale con spettacoli di vario genere dall'8 luglio all'11 settembre. Il chiterrista Raffaele Mezzanotti e il compositore pianista Dranita Fabrizio Rabisarda il 20 giugno hanno tenuto un concerto di musica classica e contemporanea all'Auditorium San Michele a Cavernago. Inaugurata al Palazzo Centrale dell'Università di Catania la mostra Agata dall'icona cristiana al mito contemporaneo a tagliare il nastro il presidente della regione nell'Omusumeci. Buonasera e benvenuti a questa edizione dell'eventi del telegiornale di Ciac Teresud che apriamo con la cronaca lucida e calcolatrice. Così il GIP del Tribunale di Catania, Daniela Monico Crea, ha definito nell'ordinanza cautelare in carcere Martina Patti accusata di aver ucciso la figlia di 5 anni Elena del Pozzo. Intanto domani pomeriggio in cattedrale a Catania verranno celebrati i funerali. Vediamo il servizio. Nella giornata dell'addio alla piccola Elena del Pozzo uccisa dalla mamma Martina Patti lunedì scorso in un terreno della periferia di Mascaluccia chiunque potrà assistere al rito funebre grazie alla diretta social sui canali dell'Arcidiocesi di Catania. Lo comunica la stessa diocesi etnea che accoglie così quanto manifestati in questi giorni da una grande fetta della popolazione catanese rimasta sconvolta dal gravissimo fatto di sangue avvenuto la scorsa settimana alle pendici del vulcano e intenzionata a partecipare alla celebrazione. I funerali verranno ufficiati domani, mercoledì 22 giugno alle 17 in cattedrale a Catania come deciso dalla famiglia del padre della bambina Alessandro del Pozzo, intimamente legata a Sant'Agata e verranno trasmessi sui canali YouTube e Facebook della diocesi. Intanto si apprendono nuovi particolari sull'omicidio. Il Corriere della Sera e la Sicilia hanno pubblicato stralci del provvedimento del GIP di Catania Daniela Monaco Crea. Tra le 15 pagine dell'ordinanza cautelare in carcere emessa nei confronti di Martina Patti, mamma di Elena, per l'omicidio premeditato, aggravato e l'occultamento di cadavere della figlia di 5 anni si legge che la donna, nonostante il tentativo di lasciar credere di aver agito senza una piena consapevolezza è lucida e calcolatrice e se non arrestata potrebbe darsi alla fuga. E ancora, la piccola Elena, vittima di una morte violenta particolarmente cruenta e anche lenta è stata uccisa da una donna che in tutte le fasi dell'omicidio deve essere stata necessariamente nel pieno delle sue facoltà trovandosi in condizioni fisiche e psichiche idonee all'agire. Martina Patti ha pure raccontato che nel momento in cui colpisce la piccola era girata e non voleva guardare. Perché uccidere un figlio in tenera età, scrive il GIP e quindi indifeso, oltre a integrare un gravissimo delitto è un comportamento innaturale, ripugnante, eticamente immorale indice di un istinto criminale spiccato e di elevato grado di pericolosità. Infine il GIP sottolinea che Martina Patti non ha manifestato segni di pentimento. Restiamo sempre su questa notizia. Giornata di lutto cittadino, quella di domani a Mascaluccia lo ha predisposto con ordinanza sindacale il sindaco Vincenzo Magra. Nel giorno in cui verranno celebrati i funerali della piccola Elena del Pozzo tragicamente scomparsa sul territorio di Mascaluccia verranno sospese tutte le manifestazioni pubbliche, eventualmente in programma e le bandiere verranno esposte a mezz'asta in tutte le sedi comunali. A titolare di attività commerciali, organizzazioni politiche, sociali e produttive oltre che associazioni sportive l'invito del primo cittadino ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino con la sospensione delle attività in segno di cordoglio a partire dalle ore 17 di domani. E cambiamo argomento. Questo pomeriggio appaternò un incendio nella zona dell'ex hotel Sicilia ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento locale a corsi con più mezzi per domare il rogo. Le sterpaglie in fiamme hanno minacciato l'edificio di via Vittorio Emanuele successivamente posto in sicurezza ma non è stato l'unico incendio sul territorio. Vediamo il servizio. Quasi le 15.30 del pomeriggio di oggi, un vasto incendio, la zona lo vedete è quella dell'hotel Sicilia alle mie spalle, un incendio che ha fatto davvero paura a tutta la popolazione anche alle auto in transito. Sono intervenuti i vigili del fuoco proprio di paternò per sedare l'incendio. Queste appunto le immagini di un pomeriggio di paura e preoccupazione per un problema purtroppo atavico nella soggiorno estiva, quello degli incendi che vanno a bruciare le sterpaglie dei terreni e provocano davvero molti danni. Ma paternò è stato davvero un pomeriggio rovente, un altro incendio ha infatti coinvolto un'area molto vasta in via Libertà alle spalle della villa comunale, si è dovuto intervenire anche in prossimità della circonvallazione paternese. L'intervento dei vigili del fuoco con l'arrivo di tre autobotti da Catani è stato provvidenziale per evitare che potessero registrarsi danni consistenti. Il fumo trasportato dal vento si è riversato anche sulle strade, riducendo la visuale degli automobilisti. In via Vittorio Emanuele il tratto immediatamente adecente all'ex hotel Sicilia, una stazione di rifornimento, è stato a lungo interrotto al transito per le operazioni di spegnimento messe in sicurezza anche un'automobile. Il presidente della regione siciliana nell'Omusumeci ha convocato un vertice tecnico per verificare eventuali criticità di emergenze sul fronte dell'approfiggionamento idrico in Sicilia. La riunione si svolgerà domani alle ore 18 a Palazzo Orleanza a Palermo. Saranno presenti i direttori dei dipartimenti regionali dell'ambiente, dell'agricoltura e dell'acqua e dei rifiuti, il segretario generale dell'autorità di Bacino del distretto idografico della Sicilia, i vertici dei due consorsi di bonifica, il direttore della struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico e il capo della protezione civile regionale. Restiamo sulla cronaca. Beni per 5 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Catania l'imprenditore Alessio Primo Tirendi, originario di Milano, residente nella provincia Etnea, più volte indagato per violazioni tributarie e commissioni di frodi nel settore delle accise. La confisca riguarda tre imprese, due attive nel settore del trasporto merci su strada, una nel commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, contanti per circa 500 mila euro, disponibilità finanziarie su conti correnti e deposito titoli. Vediamo il contributo. La Guardia di Finanza di Catania ha confiscato beni per 5 milioni di euro ai danni dell'imprenditore Alessio Primo Tirendi, originario di Milano, residente nella provincia Etnea. L'uomo in più occasioni è stato indagato per violazioni tributarie e commissioni di frodi nel ramo delle accise. Il provvedimento richiesto dalla Procura ed emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania è scattato a seguito delle investigazioni di unità specializzate del GICO, del nucleo PEF e delle Fiamme Gialle. Dalle indagini è stata accertata la sproporzione tra il profilo reddituale del suo nucleo familiare. I beni sono riconducibili al soggetto e ai suoi familiari. La misura riguarda tre imprese. Un'impresa individuale con sede a Grevina di Catania, operante nel settore del trasporto merci su strada, con il connesso patrimonio aziendale. Una SRL con sede a Catania, attiva nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di carburanti, non chiede il trasporto di merci su strada. Un'altra SRL con sede a Catania, operante nel commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, con il connesso patrimonio aziendale, con tanti per circa 500 mila euro, disponibilità finanziare su conti correnti e deposito titoli. Sempre la cronaca assurtamento dei lavoratori non autolavaggio di Catania. Quanto è emerso durante un controllo effettuato dalla polizia? Vediamo il servizio. Lavoratori incaggiati senza un regolare contratto, costretti a svolgere quotidianamente turni di lavoro insostenibili per un compenso del tutto inadeguato e quanto è emerso durante un controllo di polizia effettuato in un autolavaggio situato sulla circonvalazione a Catania, dei poliziotti del commissariato Borgo Onina, in collaborazione con Polizia Scientifica, Dipartimento di Prevenzione di Catania e Ispettorato del Lavoro. I lavoratori, tutti di origine straniera, erano costretti a lavorare 10 ore al giorno e ricevevano come corrispettivo una paga di 3 euro l'ora, paga non adeguata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Dai controlli è emersa inoltre la totale mancanza di rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. I dipendenti infatti operavano senza aver svolto alcun corso di formazione, senza utilizzare i dispositivi di protezione individuali necessari per lo svolgimento dell'attività di lavaggista. La Polizia di Stato ha così denunciato un uomo per il reato di sfruttamento del lavoro per le infrazioni rilevate e inoltre è stato emesso un provvedimento di sospensione dell'attività. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Mister Bianco dove sabato sarà possibile effettuare la microcippatura gratuita dei cani. L'appuntamento promosso dal comune Mister Bianchese in collaborazione con i comuni di San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo e in piazza Pertini alle ore 19. Vediamo. Compagni dell'uomo sin dal Neolitico, i cani sono i più antichi animali addomesticati dall'essere umano e se nelle epoche più remote il loro ruolo era strettamente legato alle attività lavorative, da ausiliari nelle battute di caccia grazie al loro fiuto, a guardiani del bestiame o delle piantagioni, oggi a prevalere è il ruolo di animali da compagnia, fedeltà e amore incondizionato è ciò che i cani donano ai loro amici umani, doni spesso non ricambiati soprattutto con l'avvento della stagione estiva, periodo dell'anno in cui i propri fedelissimi amici a quattro zambe vengono abbandonati con maggiore frequenza dall'uomo. Proprio per scongiurare l'abbandono degli animali e combattere quindi anche il fenomeno del randagismo nonché promuovere la cultura dell'adozione, il comune di Mister Bianco in collaborazione con i comuni di Camporotondo e Terneo e San Pietro Clarenza darà la possibilità sabato 25 giugno a quanti vorranno di effettuare la microcippatura gratuita dei propri cani. L'appuntamento è alle ore 19 in Piazza Mercato Piazza Pertini, quella di sabato 25 giugno sarà anche l'occasione per poter ottenere delle indicazioni utili per la gestione degli amici a quattro zambe perché sempre in Piazza Pertini. Ci saranno anche degli educatori cinofili pronti a fornire interessanti consigli. Allo stesso tempo inoltre verrà data a quanti vorranno la possibilità di adottare un cucciolo. domani per molti studenti sarà un giorno davvero particolare, nastri di partenza la maturità 2022, domani appunto alle 8.30 inizierà la prima prova. Vediamo il servizio. Per molti studenti è arrivata la fatidica notte prima degli esami ai nastri di partenza la maturità 2022. Domani mercoledì 22 giugno alle 8.30 inizierà la prima prova. Cominciano così gli esami di Stato per 539.678 maturandi. Le tracce saranno uguali per tutti gli istituti sul territorio nazionale. Il test sarà composto da sette tracce, le tipologie di compito saranno tre, analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità. Il suo valore in voto e di 15 punti si svolgerà in 6 ore. La consegna si potrà anticipare se saranno trascorse almeno tre ore. Sono 10 i punti per lo scritto di indirizzo che andrà in scena giovedì 23 giugno a partire dalle 8.30. La seconda prova verrà preparata dai docenti titolari della disciplina oggetto del test. Le tracce saranno le stesse solamente per le classi quinte del medesimo indirizzo, articolazione ed opzione dell'istituto. Il secondo test durerà dalle 4 alle 6 ore per indirizzi liceali, salvo quelli che prevedono attività pratiche come l'artistico. La prova può svolgersi in più giorni. Gli istituti tecnici e professionali avranno uno scritto di indirizzo con una durata tra le 6 e le 8 ore. L'esame di Stato si concluderà con il colloquio orale, 25 punti, che inizierà dalla visione di materiale, ovvero testo, un progetto o un'immagine. Il candidato a quel punto dovrà avviare una trattazione interdisciplinare basandosi sulle conoscenze nelle materie studiate nell'ultimo anno, compresa l'educazione civica. Si terranno in considerazione le attività svolte in PCTO, vecchia alternanza scuola-lavoro. Infine si commenteranno le prove scritte. Il colloquio orale può durare dei 40 e 60 minuti. Adesso tocca a voi maturandi. Buona fortuna. Ci spostiamo ad Adrano, nella sede della Luxesco. Azienda Adranita attiva nel campo della riqualificazione energetica si è svolta ieri pomeriggio un'assemblea di protesta della proprietà dei lavoratori per il blocco dei crediti dello Stato per il superbonus 110%. Tanti cantieri fermi i clienti in lista d'attesa per il 24 giugno organizzato una manifestazione di protesta a Roma. Verrà presentato anche un esposto alla Procura. Sentiamo. La Luxesco è un'azienda Adranita, una delle prime in Sicilia ad aver effettuato interventi di riqualificazione energetica in tantissimi edifici. Un'intensa attività iniziale che è stata bloccata improvvisamente a causa dei provvedimenti dello Stato. Ne parliamo con Salvatore Galati che è l'amministratore delegato della Luxesco. Oggi c'è stata un'assemblea da parte della proprietà ma anche dei lavoratori qui nella sede di Condrada Condrasto in territorio di Adano. È stata organizzata una manifestazione di protesta per il prossimo 24 giugno a Roma ma vediamo per quale motivo c'è questa mobilitazione dell'azienda Galati. Allora ricordiamo cos'è successo perché si è bloccata la vostra attività così all'improvviso dopo un'intensa stagione di lavori. Diciamo che è successo secondo me per il semplice motivo che la stampa ha dato troppo verso di noi dicendo che chiunque noi siamo in questo settore da tanto tempo facciamo truffe, facciamo questo come le iene, come report e tutto quanto. Ma non hanno detto anche la verità di quanto benessere noi abbiamo portato. E per noi le indende le aziende che si sta, non la Luxesco non è stata mai toccata? Assolutamente no. Io devo dire anche che Luxesco in questo caso qua grazie a Dio è avanta di benefici per cui tecnicamente come ho detto poc'anzi a tutti quanti i dipendenti saranno pagati tutti, anche i fornitori saranno pagati tutti. Giustamente se dovremmo continuare a fare dei bonus faremo fatica. Attività noi ne abbiamo diverse per cui stiamo andando avanti su altri settori. Mi dispiacerebbe per tutto l'indotto che abbiamo creato che sono più di 200 operai o anche tutti i miei colleghi perché oggi è nato Rivivi Italia che è praticamente un movimento che abbiamo fondato noi in cui tutti, anzi chiedo la cortesia a chi vuole unirsi, va sul sito o va direttamente su Facebook o lo cerca dappertutto e Rivivi Italia si può tranquillamente iscrivere perché è un movimento per gli imprenditori e per gli italiani onesti, quelli che veramente tengono all'Italia. Questo qua è quello che stiamo facendo. Poi di che con tutti gli altri movimenti ci sono messi d'accordo per il giorno 24 di fare una manifestazione a Roma per dire basta al governo ballerino perché questo è un governo ballerino. Lei diceva prima che la stampa ha dato notizie su delle truffe che ci sono state nell'ambito del super bonus 110 anche se non ha toccato a voi. Dice però che queste notizie ci hanno molto danneggiato perché appunto il governo ha bloccato tutto. Ma voi cosa chiedete adesso dal governo? Noi chiediamo al governo lo sblocco immediato dei crediti e delle leggi chiare. Chiare significa che ci sono delle situazioni che si possono creare soprattutto anche organizzare un protocollo per quanto riguarda le truffe perché non è vero che non esistono i protocolli. Noi in Italia abbiamo varie società come Nenomino 1 GSE che da tanto tempo che distribuisce efficientemente energetico per l'Italia contributi. Per cui l'ha sempre fatto bene, abbiamo più di 12 anni che io lavoro con loro e non hanno mai fatto fare una truffa. Perché non darla loro o perché non ci sono altre operatività? Le banche giustamente hanno chiuso i portoni. I crediti noi oggi, Luxesco, come dico anche gli altri colleghi, poc'anzi abbiamo avuto una riunione con altre aziende grosse nel settore. Chi poco, chi meno. Luxesco vanta più di 5 milioni di euro, gli altri vantano anche più di me, per cui siamo stanchi, gli imprenditori sono stanchi. Tanti lavori ovviamente non sono partiti a causa di tutto questo. E neanche partiranno, perché noi non siamo certi più di fare lavori perché giustamente ci siamo ritrovati proprio in una situazione disastrosa. In lista d'attesa c'erano tanti clienti? Assolutamente sì, noi in lista d'attesa abbiamo tantissimi clienti che purtroppo se non si sblocca dobbiamo dirgli ci dispiace, abbiamo perso tempo, ma soprattutto a loro stesso chiediamo scusa a noi, personalmente chiedo io al nome della Luxesco, al nome delle altre miei colleghi imprenditori, chiedo scusa a tutti, ma la colpa non è nostra, non è stato un nostro volere. La cosa più che mi dispiacerebbe è che rimarranno cantieri aperti a metà. Io una cosa vorrei dire per difendere il nome degli imprenditori, per quanto riguarda Luxesco si impegnerà per i cantieri aperti per finirli, li finirà, non vi preoccupate perché noi saremo in grado di poterlo fare, però non saremo in grado di iniziare più un cantiere nuovo. Questo qua è la base principale. Lei diceva che io sto facendo questa battaglia non per me perché io posso andare avanti, ma lo sto facendo per i dipendenti? Per i dipendenti ma anche per i miei colleghi, ripeto, amministratori, imprenditori, chi ci crede all'Italia lo sto facendo per loro. Oggi sto scendendo in campo solo per questo motivo. Allora il 24 giugno si parte per Roma? Il 23 sì, anzi chi vuole per favore si può iscrivere perché con il pulmone così noi organizziamo, pagherà tutto Luxesco per aiutare praticamente questa vicenda qui per arrivare là, con gli autobus per arrivare a Roma e dire basta, basta. È una cosa vorrei dire. Noi non partiamo per fare una manifestazione violenta ma è una manifestazione pacifica, una manifestazione dove vogliamo dei chiarimenti dal governo. State preparando anche un esposto alla procura? Assolutamente sì perché praticamente i nostri legali si stanno impegnando e stanno organizzando questo esposto per presentarlo alla procura per quanto riguarda contro il governo e soprattutto contro Draghi perché lui sta un esposto molto importante e molto serio e che si chiama istigazione al suicidio. Istigazione per gli imprenditori perché per chi non ce la farà credetemi succederà l'inferno e per chi veramente oggi vuole bene a questi imprenditori che hanno creduto a questo governo, che questo governo veramente non ha fatto niente di buono. Se succederà qualunque tipo di, e spero di no, un mio collega o gli imprenditori italiani che dovrebbe suicidarsi, la colpa è solo del governo. E per questo qua vogliamo farglielo sapere ancora prima che succeda. Cambiamo ancora argomento. A Paternò nasce l'associazione Amici di Sofonisba. Obiettivo valorizzare i beni artistici della pittrice cremonese, la Madonna dell'Itria e la Madonna del Riparo. Vediamo. A Paternò nasce l'associazione Amici di Sofonisba con l'obiettivo di valorizzare i beni artistici unici nel loro genere, opera della pittrice cinquecentesca Sofonisba Anguissola. L'artista ha vissuto a Paternò per una brevissima pagina della sua vita, poco più di un quinquennio, quando nel 1573 sposò il nobile Fabrizio Moncada. Lasciata a Madrid, dove lavorava come pittrice alla corte di Filippo II, si trasferì con il marito a Paternò, città della quale Fabrizio era governatore. Nel 1578 la tragedia. Fabrizio Moncada morì in mare durante una tempesta. Sofonisba l'anno successivo decise di lasciare la città e qui però lasciò traccia della sua permanenza, donando l'opera più importante della sua impareggiabile produzione pittorica, la Madonna dell'Itria. Per secoli il dipinto è stato tra i beni artistici, patrimonio della Chiesa di Santa Maria dell'Alto, conservato negli ultimi decenni nella Chiesa di Maria Santissima Annunziata, l'ex monastero, solo nel 1995, grazie alla critico d'arte Alfredo Nicotra, è stato possibile attribuirne la maternità dell'opera proprio alla pittrice cremonese. Un'attribuzione confermata alcuni anni fa grazie al ritrovamento di un documento dove si legge della donazione del dipinto al convento di San Francesco dell'Ordine dei Conventuali di Paternò. Il dipinto si trova in questo periodo a Cremona, in mostra, insieme ad un'altra opera attribuita all'Anguissola, la Madonna del Riparo. Consapevoli di questo enorme patrimonio, come detto è nata l'associazione Amici di Sofonisba, che vede al suo interno quanti puntano al rilancio del territorio guardando alla cultura e all'arte. La presentazione ufficiale, con i primi tesseramenti, è stata effettuata nel corso di un evento organizzato in Biblioteca Comunale a Paternò. La serata si è aperta con l'esecuzione di brani musicali ad opera dei maestri Salvatore e Tiziana Coniglio. Da qui hanno preso la parola Donna Salvatore Patanè, presidente dell'associazione e parroco della chiesa di Maria Santissima Annunziata, Lucrezia Tirotta, Francesco Giordano e Antonio Caruso, tutti i componenti dell'associazione che hanno spiegato l'importanza storica, gli obiettivi dell'associazione e il progetto da realizzare per ospitare al loro rientro i due dipinti in sicurezza. Per realizzare l'intervento occorre raccogliere fondi e molte associazioni cittadine hanno già dato la loro ampia disponibilità. È stata presentata questa mattina la villa comunale Adrano Summer Festival, la rassegna estiva organizzata dall'amministrazione comunale con spettacoli di vario genere dall'8 luglio all'11 settembre del 2022. Gli eventi si svolgeranno nell'arena dell'Etna ricavata dal vecchio campo sportivo, l'imitrofo al giardino pubblico. Ad Adrano due date uniche in Sicilia con gli artisti internazionali Bob Sinclair e Steve Aoki. Alla villa comunale di Adrano questa mattina la presentazione ufficiale della prima edizione di Adrano Summer Festival organizzata dall'amministrazione comunale in cartellone spettacoli di vario genere dall'8 luglio all'11 settembre 2022 che si svolgeranno all'interno dell'arena dell'Etna, la struttura in cui i lavori sono ancora in corso e che è ricavata dal vecchio campo sportivo l'imitrofo al giardino pubblico Adanita. L'area sarà pronta per il primo evento dell'8 luglio. Ad illustrare la rassegna il sindaco Fabio Mancuso e l'assessore regionale al turismo Mario Messina, con loro Marco Grimaldi, il presidente del consiglio comunale Carmelo Pellegriti, il vice sindaco Agatino Perni, l'assessore Maria Scardina e la dottoressa Agata Rosano. Un cartellone di prestigio con eventi per tutti i gusti e tutte le età, fra DJ set, musica, teatro, opera lirica e due eventi da Bollino Rosso con uniche date in Sicilia per artisti internazionali Bobby Sinclair, il 21 luglio, leggenda della musica dance, Stevie Aoki, il 21 agosto, disc jockey e produttore discografico statunitense di origini giapponesi. Grande attesa anche per Elettra Lamborghini, 4 agosto, ed H7, 12 agosto. E ancora Gigi Finizio, 6 agosto. Anna Tatangelo, 31 luglio, ricche e poveri, 10 agosto. In cartellone anche il teatro tradizionale e il teatro comico, Ale Franzi, il 30 luglio, Giorgio Pasotti, il 2 agosto, e ancora i Sansoni, 9 agosto, Anna Foglietta, 17 luglio. In prima linea anche i più importanti attori del panorama siciliano, Pippo Pattavina, il 18 agosto, Enrico Guarneri, il 13 agosto, e ancora Giuseppe Castiglia, l'8 luglio. Nadia De Luca, il 22 luglio. Il 26 agosto sarà la volta dell'opera lirica, Cavalledia Rusticana, e l'11 settembre, il Gran Galà dell'Operetta. Poi andranno Dance Contest, con Nunzio Stancabiano e Raimondo Todaro, il 1 agosto. E infine il live show, con Cristiano Di Stefano, Carmelo Caccamo e altri artisti, il 9 luglio. In programma anche il premio Efebo d'Oro. Tutti gli spettacoli sono a pagamento, tranne quelli di Anna Tatangelo, ricche e poveri, e live show. Sindaco, un cartellone ricchissimo, ci sono giornate da bollino rosso, diceva, per le migliaia di persone che giungeranno ad Adano. Langiamo un invito particolare alla città, perché dobbiamo accogliere tante persone che vengono da fuori. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, da tutto quello che sta succedendo nei canali di richiesta dei biglietti, io ritengo che migliaia di persone, e forse migliaia a dire poco, verranno in questa città per guardare uno spettacolo, ma io ritengo anche per ammirare quello che noi possiamo offrire. Questo è un luogo tra il Simeto e l'Etna, che è incastonato in un alto piano che tutti possono apprezzare. Però dobbiamo essere accoglienti, dobbiamo essere puliti, dobbiamo fare quanto di meglio è possibile come cittadini, dobbiamo forzarci ad accogliere tante persone. Ci candidiamo ad essere la terza porta dell'Etna, ci candidiamo ad essere un luogo di riferimento per il turismo e per fare questo bisogna fare un passo in avanti, bisogna provincializzare la città, bisogna renderla unica in un contesto regionale e nazionale. L'assessore diceva un cartellone non solo di prestigio, ma che sottolinea anche dal punto di vista politico la lungibilanza di chi lo ha voluto, l'amministrazione comunale di Adrano, perché guarda oltre gli spettacoli e ricordava lei appunto la questione ricettiva. Ma sì, è un cartellone di grande livello, un cartellone di prestigio che difficilmente si trova in altre realtà comunali, ma lo sottolineavo, mira certamente ad aggiungere flussi a un'importante città come Adrano, quindi non solo far divertire i propri concittadini, ma offrire a chi vuole scoprire nuove realtà, possibilità di appunto offerte culturali diverse. Credo che su questo si debba continuare a lavorare, lo fa bene l'amministrazione comunale di Adrano, il sindaco Mancuso, grande lungimiranza politica e speriamo che sempre di più la regione siciliana possa offrire ai nostri turisti, visto che la Sicilia è la più prenotata d'Italia per la stagione estiva, un'offerta culturale di alto livello come questa. Ci sono tre eventi gratuiti che sono il live show, lo spettacolo di Anna Tatangelo e lo spettacolo dei ricchi e poveri, nei quali quindi saranno in piazza Umberto e forse probabilmente il live show all'interno dell'arena e quindi quelli non ci sarà bisogno di nessun biglietto. Per tutti gli altri eventi bisogna andare sui siti Ticket One, CT Box e Live Ticket, lì ci sono tutte le istruzioni, ci sono i singoli prezzi perché sono tutti diversi, cominciamo con biglietti da 10 euro e il massimo biglietto è il 40 euro di Bob Sinclair che ha però un secondo biglietto da 25, quindi comunque accessibile rispetto anche ai costi molto importanti che ormai ci sono, ormai i biglietti per questo tipo di eventi sono almeno 60-70 euro. Quindi un cartellone con importantissimi artisti ma con dei prezzi contingentati per consentire a tutti di poter entrare a vedere un bellissimo spettacolo a casa propria praticamente. Restiamo nell'ambito della cultura e degli eventi. Il compositore, pianista Drenita, Fabrizio Ravisar, del chiterrista Raffaele Mezzanotti hanno tenuto un concerto di musica classica e contemporanea ieri all'auditorium San Michele a Cavernago in provincia di Bergamo. Nel servizio tutti i dettagli. Il chiterrista Raffaele Mezzanotti e il compositore, pianista Drenita, Fabrizio Ravisarda il 20 giugno con la collaborazione di Rosmeri Amodeo hanno tenuto un concerto di musica classica e contemporanea all'auditorium San Michele a Cavernago in provincia di Bergamo. Il filo conduttore dell'evento è stato l'evoluzione della scrittura musicale. Gli artisti sono partiti da musiche dell'Ottocento arrivando al Novecento ma hanno interpretato anche brani personali nella circostanza infatti Ravisarda ha presentato Teco, brano facente parte della raccolta dal titolo Evocazioni scritta di proprio pugno. Le esibizioni sono state molto apprezzate dal pubblico che ha partecipato all'evento. Abbiamo tenuto un concerto a Cavernago presso l'auditorium San Michele e all'interno di questa manifestazione ho presentato alcuni brani del repertorio classico nello specifico Ludwig van Beethoven con la sonata per Alice numero 2 poi Claude Debussy con una composizione del 1905 Images e sono arrivato alla contemporaneità suonando e seguendo quindi un mio brano che ha il nome Teco di Teco e che è stato pubblicato da poco dalla casa editrice Edizione Momenti. L'evento è stato molto partecipato per cui siamo contenti della buona riuscita e speriamo presto di replicare. Chiudiamo con un ultimo servizio taglio del nastro ieri al Palazzo Centrale dell'Università di Catania per la mostra su Sant'Agata che raccoglie opere del periodo compreso tra il XIV ed il XXI secolo provenienti dai maggiori musei siciliani affiancate da proposte artistiche moderne. L'evento apre la rassegna culturale d'Ateneo porte aperte UNICT 2022 sentiamone di più. Una mostra che celebra la martire e patrona di Catania, Sant'Agata affiancando alla già nota iconografia dipinti e ceramiche custoditi nei musei regionali e civici sculture e fotografie di artisti contemporanei raffiguranti Sant'Agata e la sua fantasmagorica festa. La mostra Agata dall'icona cristiana al mito contemporaneo ospitata nelle sale del Museo dei Saperi e della Mirabilia Siciliane del Palazzo Centrale dell'Università di Catania è stata inaugurata ieri dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Una ventina le opere esposte in un unico contesto narrativo realizzate tra il XIV e il XX secolo che raccontano la vita e la morte di Agata e il suo rapporto con l'umanità. I dipinti e le ceramiche dei musei della regione siciliana le gallerie di Palazzo Abatellis e di Palazzo Bellomo i musei Pepoli di Trapani quello interdisciplinare di Messina e quello della ceramica di Caltagirone le tele e i lapidei provenienti dal Museo Civico del Castello Ursino dall'Arcidioci Sietterneo e dalle collezioni dell'Università insieme ai lavori di artisti contemporanei fotografie, sculture e installazioni olfattive. La mostra è finanziata dalla regione siciliana attraverso l'assessorato dei beni culturali dell'identità siciliana ed è stata ideata e organizzata dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania in collaborazione con l'Università Sistema Museale d'Ateneo e con la Fondazione OL Mediterraneo Antico. La mostra, detto il presidente della regione Nello Musumeci, è un omaggio ad Agata simbolo di fede e coerenza sino all'estremo sacrificio che con il suo esempio è diventata ispiratrice di pittori, scultori, orafi, scrittori e poeti. L'Ateneo, ha aggiunto il rettore Francesco Priolo, si fa promotore di iniziative ed eventi di assoluto valore ma prendo i propri spazi museali e le proprie strutture per accogliere i turisti e i cittadini nel contesto della nuova edizione della rassegna di eventi artistici e culturali Porti Aperte Unict 2022. E con questa notizia termina quest'edizione del nostro telegiornale vi ricordo che potete continuare a seguirci anche sul nostro sito www.ciaccatelesud.com ma anche sui social su Facebook, Instagram e Telegram. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata. www.ciaccatelesud.com www.ciaccatelesud.com